buongiorno grazie a insurtech per averci ospitato oggi io sono antonio altamura country director di delphix italia e sono molto contento di essere qui oggi per raccontarvi che impatto può avere delphix su tutto il mondo assicurativo buongiorno a tutti anche da parte mia ugo poglio io sono field ctu e mea di delphix oramai da otto anni anche sono qui appunto insieme ad antonio per raccontare un po di cose che facciamo per il mondo assicurativo prima prima domanda importante che volevo porre ad ugo qual è l'impatto di delphix su quello che è la trasformazione digitale in ambito assicurativo e quale può essere il beneficio per sia gli operatori che i clienti finali del mondo del mondo appunto insurance sì dunque innanzitutto partiamo da delphix è una società statunitense fondata in california silicon valley nasce nel 2009 da esperienze fatte dal nostro fondatore già di di altre tecnologie che lui poi ha venduto con l'intento di rendere i dati agili in europa siamo presenti al 2012 in italia in particolare dal 2014 e oggi abbiamo all'incirca 700 dipendenti e la totalità quasi dei clienti fortune 100 sono nostri clienti che cosa fa delphix delphix è una soluzione una data platform nell'ambito devops quindi il nostro obiettivo è quello di fornire una piattaforma agile veloce che dia governance e sicurezza quando c'è il tema della gestione dei dati per tutti gli usi che oggi si fanno appunto del dato che sia per ambienti di analytics piuttosto che test data management sviluppo del ciclo di vita del software e così via oggi il dato è di fatto l'elemento che è rimasto diciamo l'ultimo ostacolo in una catena agile e veloce della gestione del software un principio che esiste nel mondo assicurativo che possiamo vedere riflesso anche in quello che è il mondo del software e mi collego a quello che diceva antonio per il tema della trasformazione digitale e che oggi nel mondo insurance si ragiona su quello che è il prodotto il ciclo di vita del prodotto assicurativo parimenti si ragiona di ciclo di vita del software e questa analogia forte è dovuta chiaramente al fatto che sempre di più le aziende diventano digitali e si basano su soluzioni software per gestire e mettere in piedi le loro strategie di business questo parallelo ci fa capire quanto è importante una strategia nell'ambito IT per non solo la gestione del codice ma ovviamente anche per la parte di gestione dei dati perché gestire i dati significa gestire quell'elemento complesso che di fatto ha tutta la logica del business qualsiasi evento di business di fatto è veicolato dal dato facciamo alcuni esempi nel mondo per esempio le assicurazioni delle automobili oggi l'esistenza delle app e l'utilizzo delle app per poter semplificare quello che è appunto il ciclo di vita la fornire un'assicurazione una polizia assicurativa secondo quelli che sono i miei bisogni quindi il più possibile personalizzata e dall'altra parte dare per esempio la possibilità di fare la gestione del sinistro in tempi estremamente rapidi identificando per in modo molto preciso quali sono il contesto del sinistro le condizioni e così via per esempio con la geolocalizzazione ha fatto sì che la stragrande maggioranza delle aziende assicurative oggi propongono appunto un'app per tutto per tutta la gestione della polizza se questo ha ridotto enormemente i tempi di per esempio risarcimento ha anche introdotto un fattore importante nel controllo per esempio delle frodi dove sappiamo che purtroppo l'italia ha sempre avuto un po una piaga aperta che si sta però appunto indirizzando con l'utilizzo delle tecnologie dietro l'utilizzo di una app su mobile di di fatto c'è un mondo di dati che viene sfruttato e questo mondo di dati poi viene anche utilizzato per fare delle analisi quindi ogni azienda sfrutta questo patrimonio informativo di fatto poi per capire come raffinare come migliorare e fornire servizi sempre più personalizzati e attuali gli eventi recenti quindi la pandemia piuttosto che la crisi energetica la guerra hanno fatto capire come viviamo in un mondo che è in costante evoluzione e se quindi ragioniamo su quello che è il ciclo di vita di un prodotto assicurativo non possiamo esimerci da ragionare sul ciclo di vita del software che è legato a questo prodotto e la velocità diventa un fattore importante essere veloci nel fornire nel cambiare quella che la mia offerta di prodotti e di servizi diventa fondamentale per rimanere competitivi sul mercato e il mondo insurtech ci dà questa conferma come oggi non esiste più un approccio tradizionale al mondo assicurativo ma un mondo sempre più eterogeneo fatto di sharing economy dove industrie diverse come per esempio il retail parlano col mondo assicurativo piuttosto che il mondo finanziario le banche parlano col mondo assicurativo per fornire prodotti che magari solo cinque sei anni fa non erano nemmeno stati ipotizzati quindi c'è quest'anno costante necessità di evoluzione e tutto questo si riposa di fatto si basa sul su quello strato che è il software e di fatto ho un problema perché non riesco a fornire quei servizi così come i miei clienti mi chiedono e qui entra in gioco delfix con la sua piattaforma e con quello che noi facciamo delfix appunto si presuppone come obiettivo quello di trattare il mondo dei dati di queste applicazioni quindi tipicamente lavoriamo con i database che sono ovviamente l'elemento dove si fa persistenza dell'informazione di business e rendiamo semplice qualsiasi necessità di propagazione distribuzione copia dei dati in un'ottica DevOps quindi abbiamo delle API che consentono appunto l'integrazione la cooperazione di piattaforme diverse di tool diversi ci integriamo con quelle che sono le tool chain esistenti presso i nostri clienti non andiamo a cambiare il modus operandi il modo di lavorare le best practice delle aziende piuttosto cerchiamo di intervenire lì in quelli che sono i punti di rallentamento i colli di bottiglia dove la gestione del dato diventa difficile per fare un esempio il tema della compliance delle varie regolamentazioni del settore assicurativo è certamente fondamentale il rispetto dei dati sensibili è oramai è un dato di fatto e quando lavoro allo sviluppo al test al collaudo di un'applicazione devo essere certo di poter lavorare con dei dati che non siano sensibili e quindi i dati dei clienti siano stati anonimizzati ma devo avere al contempo un patrimonio informativo che mi consente di fare questo sviluppo questi test in modo coerente perché devo rappresentare di fatto una funzionalità che poi verrà messa a terra nel mondo reale quindi se c'è un gap tra quello che è il mio ciclo di test e quello che poi di fatto si verificherà nella realtà ho ovviamente un problema perché avrò dei bug degli incidenti in ambienti di produzione questo diagramma conferma appunto che cosa si verifica quando noi andiamo ad intercettare le problematiche dei bug in produzione rispetto ad anticiparle cosa vuol dire vuol dire riuscire a anticipare quindi la discovery di problemi e far sì che questi non si verifichino in produzione quindi avendo una qualità e una continuità del business molto molto più alta ed è lì che interviene delfix quindi siamo in grado di gestire di fornire copie dei dati analoghe identiche a quelle che sono i dati di produzione mascherate quindi anonimizzate dove si può lavorare in ottica agile quindi versionando i dati integrandosi con le pipeline sia i CD in modo da rendere questo ciclo molto efficace molto veloce tanto ugo grazie per come dire le tante informazioni che ci hai dato in merito a quello che può essere il valore aggiunto di delfix al mercato assicurativo però la cosa che adesso ti volevo chiedere io era appunto quale esempio concreto quindi su quali clienti magari delfix ha avuto un impatto significativo sia in termini ad esempio nella creazione di business incrementale quindi verso nuovi canali distributivi magari che prima non c'erano o anche appunto quello che accennavi precedentemente tu grazie a delle app sempre più articolate possono seguire il cliente durante tutto quello che è il ciclo diciamo di vita assicurativo sostanzialmente quindi ecco lascio lascio a te qualche qualche esempio concreto abbiamo tanti clienti nell'ambito assicurativo il settore finance il settore insurance sono tra quelli su cui abbiamo probabilmente la maggioranza di casi d'uso posso citare per esempio aziende come cmp cmp in francia società assicurativa assicuratrice è presente non solo in francia ma anche in italia e perché hanno scelto delfix sono venuti da noi perché avevano bisogno di un controllo e una governance sui dati e soprattutto sui dati sensibili di fatto la scelta l'utilizzo della soluzione è andato ben oltre quello che era lo scopo iniziale quindi oltre a fare l'anomizzazione dei dati hanno messo in campo le funzionalità più prettamente devops qui nel senso della dell'agilità della distribuzione del dato e hanno accelerato tutte quelle che sono le loro applicazioni critiche per darvi un esempio oggi sono in grado di fornire una copertura assicurativa per un contratto di affitto nel giro di 48 ore tutto fatto tramite un'app cosa che pochi anni fa era era impensabile riuscire a fare altri esempi che abbiamo e bmp paribas con il gruppo cardiff e mi viene appunto da citare bmp perché è un buon esempio di integrazione tra il mondo assicurativo e il mondo finance bmp utilizza delfix oramai a livello mondiale e di fatto ha accelerato il loro rilascio di applicazioni quindi la frequenza di deployment di 4 5 volte rispetto a quello che facevano pochi anni fa poi in italia abbiamo anche altri esempi non prettamente nel mondo insurance che però possono essere significativi sky italia nell'ambito media intelco utilizza delfix in modo molto soddisfacente da già da qualche anno e hanno aumentato di parecchio quello che era la creazione di ambienti integrati per fare appunto lo sviluppo delle applicazioni e sono passati da due a ben nove ambienti integrati progetti come il lancio di sky wifi sono nati e sono stati velocizzati grazie a delfix quali sono un po gli elementi chiave di queste scelte direi sicuramente le metriche che citavo prima poter aggiornare i dati per un ciclo di vita del software in pochi minuti in 10 15 minuti avere la possibilità di riflessare gli ambienti dati a consumo appunto degli sviluppatori degli analisti di business di data scientist eccetera nel giro di pochi minuti e più volte in un anno arrivando anche a due trecento volte in un anno che sono dati reali appunto del caso per esempio di bmp questo significa avere uno stack applicativo che è in linea con le attese della strategia di business un elemento sicuramente interessante che viene fuori un po da tutti i clienti ma in particolare lo voglio citare perché è stato recentemente menzionato da appunto da sky durante una nostra conferenza l'importanza oggi degli ambienti di sviluppo e di test del test data management se prima questi ambienti erano considerati un po la cenerentola dell'it oggi si capisce invece la straordinaria importanza strategica perché di fatto sono quel volano che consente di avere lo stack applicativo e quindi le funzionalità di business sempre più aggiornate se tutto questo non viene gestito con con la dovuta attenzione cura e priorità così come si fa con gli ambienti di produzione si rischia ovviamente di rimanere indietro e questa è un'esperienza appunto che sky ha voluto condividere con noi grazie mille intanto ugo per anche questi esempi molto specifici che sicuramente aiuteranno tutti gli associati di insurtech a capire meglio quello che potrebbe essere il valore aggiunto di delfix nei loro ambienti e spero che da qui in futuro ci sarà sempre di più un'interazione tra tutti gli associati e appunto la nostra società in modo tale da mettere a fattore comune quello che è il know how che abbiamo accumulato in tutti questi anni quindi ringrazio molto intanto ugo e soprattutto insurtech e tutti gli associati che sicuramente troveranno il nostro messaggio molto interessante grazie a presto